Dopo l'arrivo di Zampano il Pescara si concentra sul mercato per un centrocampista oltre che per reperire un difensore centrale. Dopo un tira e mola durato settimane è arrivata finalmente l'ufficialità del prestito del giocatore di proprietà del Verona. Zampano vanta nel suo curriculum sportivo due campionati con l'Entella Chiavari e uno la scorsa stagione in Serie B con la Juve Stabia. Roberto Guana del Chievo già seguito dal Pescara nella passata sessione invernale di mercato e Francesco della Rocca del Palermo. L'anno scorso in prestito al Bologna sono insieme all'ex giocatore del Carpi Ledian Memusciai i nomi caldi per il centrocampo anche se l'ex lancianese Federico Casarini e Galloppa rappresentano altre desiderata della dirigenza bianca azzurra. Della Rocca il nome nuovo delle ultime ore Maguana, pupillo di Giorgio Repetto può contare sugli ottimi rapporti fra il Pescara e la società veronese. Sempre per il centrocampo restano poi le alternative Djokovic e Finazzi che però per motivi diversi non convincono completamente il Pescara. C'è anche nella lista dei papabili biancazzurri anche il modenese Signori che ha però caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste dal tecnico biancazzurro Marco Baroni. Per l'ex Carpi Memusciai c'è poi qualche dubbio legato sulle sue condizioni fisiche. In difesa dopo l'arrivo di Zampano dovrà essere completata la Rosa con un centrale di spessore. Felice Piccolo, 31 anni, lo scorso anno al Cluj in Romania piace ma ha un ingaggio elevato. Il genuano ex Avellino Izzo è il preferito di Baroni ma la società Ligure non molla facilmente. Sul Sandoriano Fornasier restano perplessità sulle condizioni fisiche mentre il veronese sponda Chievopap è solo l'ultima alternativa. E intanto Agnello Cutolo saluta e va Livorno. Per l'altro attaccante Ferdinando Sforzini si deciderà tutto nelle ultime ore di mercato. Tante le richieste per l'ex attaccante del Grosseto.